buonasera buonasera meno 4 3 2 1 ciacche eccoci mancano quattro giorni al 24 settembre dove ci vedremo impegnati adumo e vip italia per la giornata nazionale per la donazione del midollo osseo un premio di sangue salvo una vita certo noi nel lazio siamo a viterbo ea roma viterbo siamo a piazzale dei caduti davanti all'ex chiesa dell'almadiani a roma siamo a piazzale garibaldi zona giannibolo ci sarà un'automoteca e potrete fare il prelievo di sangue dalle ore 10 alle ore 4 del pomeriggio e diventare subito donatori di midollo osseo entrare alla banca nati questo quest'anno è il primo anno a livello nazionale che vip l'associazione di clown di corsia vivere in positivo scende in piazza insieme all'atmo per sensibilizzare le persone ad essere tipizzate ossia a fare un prego di sangue e entrare nella banca dati dell'atmo quindi aspettiamo tutti quanti a viterbo dalle ore 10 alle ore 16 allora 16 a piazza del sagrario davanti alla chiesa degli armadiani e così che essendo tipizzati potete entrare nella banca dati e allora allora servirà il vostro intervento aiuterete a salvare una vita molto spesso la vita di un bambino perché queste malattie appunto prendono bambini in età pediatrica e con un nostro semplice gesto quello appunto di donare il midollo osseo possiamo aiutarlo a continuare a vivere aiutarlo a giocare potremmo potremmo aiutarlo a diventare grande dunque vi aspettiamo tutti quanti il 24 settembre con i pip clown e l'atmo tutti insieme per salvare una vita